Musica E' stata inaugurata a Ravenna la stazione Power Stop Linea Blu, colonina di ricarica ultrafesta by Volvo Cars attivata nell'ambito del progetto nazionale promosso da Volvo Car Italia per favorire la mobilità elettrica nel nostro paese. La stazione di ricarica veloce di Ravenna si colloca nell'ambito di un ampio progetto promosso dalla filiale italiana di Volvo Cars in collaborazione con la rete delle concessionari ufficiali Volvo in Italia per favorire la diffusione della mobilità elettrica sul territorio nazionale in linea con la scelta strategica di Volvo Cars a favore dell'elettrificazione. Un progetto nazionale del quale voi siete i primi in Emilia-Romagna? Sì, siamo tra i primi in Emilia-Romagna, tra i primi in Italia, siamo molto orgogliosi di fare parte di questo progetto, abbiamo aderito subito con entusiasmo e crediamo che sia un segnale molto concreto verso lo sviluppo di una mobilità elettrica e anche per dare un aiuto concreto a chi si vuole avvicinare a questo tipo di motorizzazione. Questo per andare incontro a quelle che sono le problematiche di chi acquista tra l'altro un'auto elettrica, che è quella dei viaggi a lungo raggio. Esattamente, infatti con questo tipo di colonnine a ricarica ultra rapida riusciamo a ricaricare vetture elettriche in 40-45 minuti quindi anche in caso di emergenza, per cui uno magari si trova lontano da casa, riesce a ricaricare la vettura in tempi abbastanza rapidi. Cosa vi aspettate da questa inaugurazione? Credete che ci saranno molte persone che verranno a ricaricare? Sì, è chiaro che ancora il parco circolante non è ancora elevatissimo in Italia, è anche vero che però bisogna cominciare da qualche parte quindi sicuramente cominciare a creare un'infrastruttura aiuterà anche a sviluppare il mercato delle auto elettriche in Italia. L'inaugurazione di queste due stazioni di ricarica ultra feste fanno parte di un progetto molto più ampio. Quale? Sì, il progetto Power Stop comporta la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica alimentate ad alta potenza in tutta Italia in collaborazione con la rete dei concessionari Volvo. Si tratta di colonnine alimentate con almeno 100 kW che consentono di ricaricare auto elettriche dal 20% all'80% della batteria in poco più di 30 minuti. Non a caso sono posizionate vicino ai caselli autostradali delle principali autostrade italiane per consentire agli utenti di auto elettriche di compiere viaggi interprovinciali, interregionali lungo tutta la dorsale italiana senza avere l'ansia di ricarica. Sono realizzate in collaborazione con la rete dei concessionari Volvo ma sono aperte a tutti gli utenti elettrici della strada. È una sorta di regalo che Volvo vuole fare a chi per primo adotta il concetto della mobilità elettrica. E ultimo ma non ultimo, godono di tariffe di ricarica incredibilmente competitive. Parliamo di 35 centesimi al kWh. Oggi per tutti, tra breve, questo beneficio sarà limitato agli utenti di automobili Volvo perché è naturale che vogliamo riservare ai nostri clienti i maggiori benefici e i maggiori privilegi. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS